Quando la giornata si conclude, inizia il delicato compito del riposo. Se pensiamo che un terzo della vita è dedito al sonno, nostra ricarica biologica, diventa necessario scegliere una soluzione su misura alle proprie esigenze. Gli artigiani del riposo sono a Casteldazzano e da quasi 40 anni studiano le migliori soluzioni. Una storia, quella di fama materassi, iniziata nel 1978 da Benito Uber, con il dovere e l'ambizione di proporre sempre il meglio i propri clienti. La proposta è quella del materasso a chilometri zero. A pochi passi da casa, l'intera produzione della filiera del riposo è creata sotto i vostri occhi. E la scelta non è solamente tra i vari modelli esposti nello showroom. Oltre a personalizzare il vostro acquisto con misura e colore delle reti ad oghe a vostra scelta, potrete corredarlo con guanciali, trapunte e lenzuola. Un saper fare, quello di fama materassi, che deriva da una lunga tradizione di ricerca dell'eccellenza, che si distingue per le accurate rifiniture. L'ultima novità è l'infa, la cui lastra è stata studiata con medici universitari per la conformità della spina dorsale e della distribuzione del peso. Una lavorazione anatomica formata da un doppio strato di memory foam termosensibile con doppia portanza progressiva. Il tessuto Airtex 3D, con la sua struttura reticolare, mantiene la forma anche quando compresso e assicura un costante flusso d'aria che evita la formazione di muffe e la proliferazione di acari. Grazie a questa naturale termoregolazione, l'infa è il prodotto ideale per chi ha problemi di iper sudorazione e lo elegge come una delle scelte privilegiate per l'antissoffocamento. Gli esperti di fama sono disponibili inoltre ad uscire per la rilevazione delle misure. La consegna e lo smaltimento sono gratuiti. La fabbrica del riposo è in via Roma 100 a Casteldazzano. Dormite sereni per tutta l'estate e le offerte lancio sono imperdibili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti